Si è tenuta questa mattina all'Aurum di Pescara la giornata finale della prima edizione del premio Silvano Forlano, organizzato dall'Abruzzese Salute, la mutua della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo. Più di 100 gli studenti dei licei artistici di Pescara Chieti e Lanciano che hanno preso parte alla mostra dedicata al manager e artista Silvano Forlano, scomparso prematuramente all'età di 62 anni. Le opere realizzate dai ragazzi, pitture e sculture sono in mostra dal lunedì scorso all'interno dello stesso Aurum e sono molto apprezzate dal pubblico. Si tratta di pitture e sculture che verranno giudicate da una commissione di 5 esperti che deciderà e proclamerà i vincitori. Il premio è nato per mantenere vivo il ricordo di Forlano, dirigente d'azienda alla Dicecco, artista e consigliere d'amministrazione dell'Abruzzese Salute Mutua. Silvano Forlano oltre ad essere un grande manager è stato un grande cultore dell'arte, dell'arte moderna ma anche dell'arte classica, ma in generale è sempre stato un grande promotore della competizione e del culto del bello, proprio per questi due valori che noi abbiamo voluto creare questa iniziativa coinvolgendo le scuole d'arte, gli istituti d'arte di Pescara, di Chiti e di Lanciano. È un esperimento riuscitissimo visto il numero importante di artisti che hanno voluto aderire competendo in questo progetto, in questa giornata ed è un esperimento che porterà poi ad allargare su base regionale, su base nazionale e addirittura se riusciremo su base internazionale questo esperimento negli anni prossimi, con gradualità. Silvano Forlano è stato prima di tutto quasi un amico, perché comunque è stata una persona sempre vicina alla banca e ha partecipato a tutti i processi decisionali che hanno portato comunque l'Abruzzese Salute ad ottenere riconoscimenti molto importanti, oggi conta oltre mille soci ovviamente la banca, la BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo, sostenitore, socio sostenitore dell'Abruzzese Salute e contiamo attraverso anche queste iniziative di continuare nella fase di sviluppo di questa realtà.